Questo allocchio è arrivato al nostro crassola del nord perché era fortemente debilitato, che cieco da un occhio probabilmente non riusciva a cacciare. La visita dei nostri veterinari ha confermato che era molto magro e quindi abbiamo iniziato a imboccarlo. Gli allocchi che arrivano al nostro crassola del nord sono feriti o debilitati, ma i nostri veterinari e volontari sono molto bravi e fanno tutto il possibile per rimetterli in libertà. Quando non è possibile rimangono nei nostri spazi con noi. L'allocco è un rapace notturno che appartiene alla famiglia degli estrigidi. Le sue prede sono prevalentemente piccoli mammiferi e uccelletti. La vista per loro è molto importante per la caccia, ma ancora di più l'udito. L'allocco inizialmente è stato nutrito imboccandolo. Quando sono molto nutriti difficilmente prendono il cibo da soli. Man mano che acquisiva forze poi è iniziato a prendere il cibo a pezzettini da solo. La speranza è quella che utilizzando solo un occhio impari a misurare la profondità di campo e quindi tornare a cacciare. Se imparerà potrà essere di nuovo liberato in natura. Certo ci sono dei rischi maggiori rispetto a uno che ha due occhi. Quello parte sicuramente svantaggiato. Però ci sono casi in cui animali ciechi sono sopravvissuti. Questo allocco è ancora in fase di riabilitazione. Speriamo di rimetterlo in natura. Se no piccolino rimarrai con noi. Cari amici fate come me, difendete gli animali. Hanno bisogno di tutti noi.